Per gli ospedali di Eboli, Roccadaspide e Battipaia si dispone la sospensione per il mese in corso dal 7 al 27 dei ricoveri medici e chirurgici in elezione e delle prestazioni ambulatoriali erogate nel DEA a causa delle ferie estive del personale già carente al fine di garantire le sue urgenze intese come ricoveri da pronto soccorso, interventi chirurgici e o procedure interventistiche che rivestono carattere di urgenza, consulenza per unità operative, cardiologiche, nefrologiche, chirurgiche, ortopediche, oculistiche Si stabilisce infine che le eventuali emergenze traumatologiche nel periodo 8-17 verranno inviate e trattate presso l'unità di ortopedia e traumatologia di Battipaia Questa è una nota arrivata nei giorni scorsi In poche parole la coperta è corta e quindi se qualcuno va in ferie, i medici, necessariamente si deve sospendere altro Nella nota lo si dice chiaramente, personale già carente Dunque qualcosa si deve tagliare, non c'è altra soluzione In provincia di Salerno la sanità va in vacanza e stare male diviene vietato Ovviamente Mario Conte in maniera molto piccata chiede di rivedere tale decisione Non è possibile, dice, improvvisamente sospendere le cure a migliaia di cittadini Altro che un nuovo ospedale, l'intervento del consigliere regionale Aurelio Tommasetti La piana del Sile è già in ginocchio Mentre c'è grande incertezza sul progetto del nuovo presidio emerge anche la questione del personale carente La direzione del DEA ha sospeso gli interventi per tutto il mese di agosto ad eccezione di quelli improcrastinabili perché i tre ospedali, a causa delle ferie si ritrovano in assenza di programmazione a corto di personale sanitario Ciò, conclude, è assurdo